Musica Ciao ragazzi qui ZW Jackson e bentornati sul mio canale Quest'oggi siamo qua con un video diversissimo dal solito Ci sta ogni tanto fare questo video appunto per non essere sempre pesanti con i soliti video Quindi un video abbastanza in spensieratezza E oggi ragazzi vi siete mai chiesti che altri sport farebbero i calciatori se non fossero diventati così famosi? Ecco ragazzi io sul web, su youtube ho trovato alcuni video dei giocatori più famosi appunto mentre fanno degli sport E sono qui per andare a vederli con voi Però prima di iniziare vi chiedo di lasciare un bel mi piace e di rispondere a una mia domanda Voi ragazzi oltre al calcio che sport guardate? Commentate qua sotto ragazzi il più possibile per chi ha leggero tutti i vostri commenti E in più ragazzi seguitemi anche su Instagram, link in descrizione Iniziamo Iniziamo qua ragazzi con Cristiano Ronaldo Questo qua era Cristiano Ronaldo tantissimi anni fa Perché ragazzi mi sembra che fosse appena arrivato al Real Madrid o comunque uno dei primi anni E come possiamo vedere lui pratica baseball Adesso non so se sia tipo giusto così a caso fatto perché non lo so è proprio Cristiano Ronaldo va negli stadi Però comunque in questo video ha praticato baseball Qua ragazzi siamo con David De Gea Il portiere del Manchester United Guardate che canestro, cioè che schiacciata Sì che è un portiere però ragazzi veramente veramente Cioè ha uno stacco incredibile Cioè non me lo aspettavo mai ha uno stacco così forte Adesso siamo qua con Alex Del Piero Questo qua sarà conusciatissimo Il video di Del Piero che giocava a golf Penso che sia andato virale tantissimo Tipo un paio di anni fa E comunque Alex Oltre appunto a militare nelle squadre australiane A militare appunto un po' di qua un po' di là Dopo la Juve dico Appunto dopo aver finito il calcio Il calcio serio Ha deciso di andare a fare un paio di partite a baseball Qua ragazzi siamo con Zlatan Ibrahimovic Che mi sembra che questa partita fosse tipo una partita di beneficenza A caso fra Djokovic e un altro tennista Poi raga io non guardo il tennis Però mi sembra che oltre a questa roba Erano a Roma E appunto ci sono stati sia Ibra che altri giocatori Poi adesso non vorrei dire cazzo Non so come avete capito Però era Ibra che ha giocato tennis Qua c'è Lionel Messi In questo spot con un indiano E' uno spot Però raga qua possiamo vedere Messi che gioca a cricket Io il cricket non l'ho mai capito come sport Se dovesse avere qualche fan indiano Please commentatemi qua sotto Spiegatemi cricket Perché un sacco di volte mi capita di andare in giro A portare il cane E a vedere tipo un sacco di indiani Che giocano a cricket Ma io dico chiamalo baseball Alla fine è il baseball con un'altra mazza Però non vorrei insultare nessuno Quindi spiegatemi un po' come si giochi a cricket Questo qua invece non è uno spot Non è nulla E' uno snapchat di Neymar Che gioca a basket E si esalta per un canestro da due passi Con appunto il canestro abbassato Ma questi due invece sono veramente due bestie A parte Lukaku che è grossissimo Sono Lukaku e Pogba che giocano a basket Saranno a Miami sicuramente Guardate un po' come il clima con quelle palme E ragazzi due classici amici Che giocano a basket E ragazzi hanno dei fisici assurdi Tra l'altro guardate come saltano bene Io non lo so sono attaccanti E fanno tipo i salti di due chilometri Poi sanno giocare anche bene mi sembra Però vabbè diciamo che non per essere razzista Ma i neri hanno un fisico così di natura Se fanno tipo due passi E finiamo con un ultimo ragazzi Siamo ancora qua nel tennis E questa volta sono sicuro che sono a Roma Se prima con Imbra appunto non fossi sicuro Adesso sono sicurissimo E ragazzi questa è una partita Con Totti e Djokovic Questo qua è inquadrato con la maglietta bianca E Francesco Totti E dall'altra parte ci sono Florenzi E un altro tennista di cui non mi ricordo il nome Perché di tennisti io so Nadal, Federer e appunto Djokovic Poi basta non ne so nessun altro Però guardatevelo il video su Youtube Cercate Io ho visto questo video E ho detto non posso non metterlo Cioè basta cercare tipo Totti gioca a tennis Fa straridere Perché hanno tipo i microfonini E avete presente quando i tennisti Tipo fanno Per colpire Ecco Totti tipo Gli fa Cioè lo imita E lo preme un po' per il culo Quindi fa smattare quel video Io vi ricordo di Di seguirmi su Instagram Appunto perché L'ho anche pubblicato su Instagram Spero che qualcuno di voi lo abbia visto Appunto Seguitemi su Instagram E poi ragazzi Commentatemi qua sotto Come vi ho detto prima Con la domanda di prima Era un video abbastanza breve Questo ragazzi Perché appunto Volevo staccare un attimino Però voi cliccate la campanella Perché stanno arrivando Un sacco di miti di FIFA E un sacco di partite epiche Quindi stay tuned Ragazzi Da ZV veramente è tutto Adesso Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi